Per assaporare la cucina tipica toscana, anche senza glutine, in un ambiente rustico e accogliente, per una pizza fatta a regola d'arte, anche integrale e senza glutine, scegli il ristorante pizzeria La Cantina, a greve inchianti. Aperto dalle 9 fino a tardanotte, La Cantina offre una vastissima scelta di vini da assaporare coi suoi gustosi piatti. Ciao, sono Alessandro, il ristorante pizzeria La Cantina e greve inchianti. Vi aspetto numerosi. Ciao! La Cantina, piazza 33, greve inchianti, Firenze.